Chiuse le politiche del 2022, all'orizzonte già si intravedono le amministrative della primavera 2023. A Biceglie sono in programma anche le primarie tra il sindaco uscente Angelo Antonio Angarano e Sergio Silvestris. Quest'ultimo ieri ha aperto il suo percorso con un incontro pubblico in via Aldomoro. Sentiamo. Comincia un sentiero su cui ci avventuriamo oggi con tanto impegno ma anche con tanta speranza per avvicinarsi al momento in cui la città eleggerà il nuovo sindaco. Non è importante chi vincerà, è importante cosa dal 2023 al 2028 succederà a 56.000 bicegliesi. Ed è su questo che mi piacerebbe concentrare la riflessione, su quello che è il futuro di 56.000 uomini, donne, bambini, ragazzi, anziani che guardano con speranza a quello che verrà. È il momento del sogno ma questo sogno deve essere poi concretamente realizzabile. Adesso è il momento di condividere il programma, di condividere delle idee. C'è tanta sofferenza, è un momento di crisi, tutte le famiglie stanno vivendo come un dramma l'aumento delle bollette. In questi momenti il problema più grosso non è non avere i soldi per affrontare la crisi ma non avere idee, forza e senso di comunità per riuscire ad uscire da questa situazione. Quello che vogliamo mettere in campo a questo momento sono tante buone idee che possiamo subito realizzare a partire dal 2023. Parlare di politica oggi a distanza dei pochissimi giorni dalla chiusura di una campagna elettorale per le politiche ci sarà attenzione da parte dei cittadini? Parliamo della città, parliamo della vita vera, parliamo di quello che ogni giorno affrontiamo in termini di disagi, di problemi e parliamo di soluzioni. E poi parliamo di quella che deve essere la prospettiva per i prossimi 25 anni per una città che ha perso una zona industriale, che è un centro storico degradato che ha bisogno di rilanciare la sua economia, il suo territorio, il suo lavoro partendo dai ragazzi che sono quelli che vivranno questa città insieme a noi e dopo di noi e che hanno diritto a trovarla più performante e più capace di orientarsi al domani rispetto che all'oggi.